Biologia, lezione 37 Concludiamo il discorso sull'RNA parlando dell'RNA nucleari La prima categoria di RNA nucleari è rappresentata dagli Small Nuclear RNA, SNRNA Si tratta di 5 forme di RNA numerate con U1, U2, U4, U5 e U6 Che hanno appunto forme diverse Li abbiamo già visti a proposito dello splesosoma In quanto questi SNRNA complessano con delle proteine formando gli SNRNP Che poi si assemblano e formano lo splesosoma Vediamo invece gli Small Nuclear RNA, quindi piccoli RNA nucleolari Si tratta di RNA di forme diverse che contengono in media 60-300 nucleotidi Come vediamo non sono sempre a singolo filamento Ma possono formare delle anse che si uniscono fra di loro Le due forme più importanti sono gli SNRNACD e HACA Che sono riferiti ai box nucleotidici presenti all'interno di questi RNA Infatti gli SNRNACD presentano box C e box D solitamente in due copie ciascuno Quindi box conservati Mentre gli SNRNHCA presentano il box H e il box ACA Che sono appunto anche questi conservati Hanno un ruolo molto importante nella maturazione degli RNA Infatti si è visto che i CD sono importanti per la metilazione Quindi accolgono al loro interno l'RNA E proprio a livello dei box CD permettono la metilazione Invece gli SNRNHCA sono importanti per la conversione della uridina nella pseuduridina Quindi vediamo qui altre due rappresentazioni degli SNRNACD E vediamo appunto che gli HH anche chiamati AB Vengono, hanno delle anse all'interno delle quali l'RNA target può entrare Stessa cosa per i CD che quindi permettono la metilazione Un'ultima categoria poi di RNA nucleari E' rappresentata dagli heterogeneous nuclear RNA Cioè RNA nucleari eterogenei Con questa dicitura in realtà si vuole dire tutto e niente Perché indicano tutte le forme premature di RNA Talvolta però in alcune ricerche Con HNRNA si intende selettivamente il preme RNA Anche gli HNRNA possono essere associati a proteine In questo caso si chiamano HNRNP